Allora oggi abbiamo, Yevale ha notato che ci sono state delle problematiche veramente gravi nel primo episodio Allora, prima di tutto, non abbiamo capito niente della creazione dei rifugi e queste cose qua Perché quando io ho preso per la prima volta in mano la guida, c'era un cambia modalità e ti metteva la guida dal lato sinistro Io pensavo che semplicemente servisse per metterlo dal lato sinistro, invece cambia proprio, ti mette i progetti, le cose diverse Poi, seconda cosa, esiste un inventario rapido, che è lo zaino, tu lo equipaggi rapidamente e poi prendi gli oggetti rapidamente E noi invece ogni volta che dovevamo equipaggiare un oggetto, aprivamo l'inventario Abbiamo fatto una base in un posto di merda, schifosissimo E non siamo neanche andati in caverna, quindi adesso andiamo nella primissima caverna che ci aveva segnato nel luogo dello schianto, comunque lì vicino E ci facciamo la base in un posto un po' più strategico Un po' più fatta bene anche perché, cioè Senti, c'è la tipa, allora proviamo un approccio diverso Visto che fino ad ora abbiamo provato ad andargli incontro, proviamo ad ignorarla Allora, questo rifugio, non lo disso già, cioè lasciamolo qua, intanto non cambio Allora, Kelvin, seguimi Assolutamente Qua c'è già segnata una caverna Ok, e la vedo da GPS Quindi io direi, proviamo ad iniziare, che se non sbaglio, ecco, è più o meno questa la zona dove noi c'eravamo schiantati Ma non siamo riposati, ah, che non so se quanto conviene Ma sì, ma tanto adesso dormiamo subito, tanto qua vicino Ok, ok Sì, comunque vedi, sulla mappa ti segna anche l'elicottero dov'è Metto subito il progetto, tu inizia a spaccare alberi Un attimo, eh, fai tipo due o tre Vedete qua, è così, lo devo fare, l'altra volta, non lo faccio, non subito Ok, ok Ok, le rocce Tanto ti faccio notare che adesso c'è proprio un ordine da seguire del mettere le cose Cioè devi mettere prima i tronchi, poi un paio di pietre e poi, cioè vabbè Allora, dormiamo e saldiamo Ah, qua E là giù, è quello là Ma guarda che io amo Guarda quella montagna, la vedi a chi Ok, ci siamo, ci siamo Io mangio il ramen Io gli snack Ok, lui dovrebbe essere qua sotto la caverna Sì, eccola Ok, aspettami, aspettami Oh mio Dio Emozione Io sono praticamente one shot Ma Kelvin non viene con noi, mi sa, in caverna, eh Non ne ho idea, credo proprio di no Oh mio Dio Vieni Aki Oddio, oddio, oddio Oh mio Dio, venga Oh, munizioni Munizioni, munizioni Munizioni Faccio notizio Oh Che cazzo è stato? Sono i pipistrelli Madonna, madonna, madonna Che colpa Che caga Oh Niente Fatto Allora, luce Ma perché c'è un remo? Guarda c'è un remo conficcato in una salattite Come possiede? C'è un indigeno E c'è anche C'è anche un mutante C'è un mutante Via, 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 via Tanto abbiamo salvato No, anche lì Davanti a tu Madonna, vale Quello è uscito proprio da Silent Hill E' proprio, è un line figure E' uscito Perca troia, sì No, 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 no Ok Aia, aia Dai, sta volendo, sta volendo Corri Ok C'è la, la, la La parata Aia, aia Morto Rianimami E corri via No Mi sono riamminato Dove ti morivo Nasconditi, nasconditi Nasconditi Sei vivo? No, sono morto No No, no, no Mi ha ucciso Mi ha killato fortissimo Respawniamo Allora qua bisogna venire O con Precce Ma che cazzo Dove siamo? A che? Non vedo un cazzo A chi? Dove siamo? Oddio A chi? A chi? Cosa cazzo è? Dove siamo? Ma che cazzo è un bocciolo? Non può succedere? Come faccio? Sono uscito io Ma è un bocciolo Che cazzo siamo? Ok corri 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 Personaggio corri Vai via da qualcosa Vai via da qualcosa È più forte di quello che pensassi Fermo Allora io ho delle fecce Attaccalo qua Vieni qua Attaccalo tu E fermo lì Passare Fammi luce Capito Capito Morto Killalo 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 Lo puoi smembrare Belli inquietanti Armature inquietante Madonna Però ci hanno dato un'armatura Si un pezzo Porca trota Che merda Mangio anch'io va Ok Ma dove siamo È in culoni Sono totalmente da un'altra parte Credo Andiamo avanti Andiamo avanti No siamo nello stesso punto Ah no è qua è qua è qua È morto però Qua è dove eravamo primo Io l'ho ammazzata Oddio scappa 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 C'è un altro di quelli C'è un altro di quelli Ah senti mi faccio le lance io Perché frecce non ne posso fare Purtroppo non abbiamo modo di curarci Dimmi quanti 2 1 via Vai L'ho mancato Come hai fatto L'ho mancato L'ho preso Non ci posso credere Guarda come lo ma Non ci credo Ci so Ci so uno Ossa Vieni di ossa Vai prendi 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 Posso fare l'armatura in ossa Ce l'ho al massimo Tanto Nastro Sì non chiudo Dove l'è ossa qua Non possiamo curarci Ci facciamo l'armatura Purtroppo Mi mancano tre stacche C'ho l'armatura al massimo Senti tu Occhio Aia 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 Colpito Vai 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 Senti ma Eccolo Ah ma sono questi che ruggiscono così No tu colpi da te vale Si è messo in mezzo Ma lanciagli le cose No voglio colpirlo così Ce la faccio Ma rischi No non rischio io Ce la faccio lo stesso Non è il problema No a chi non Che cazzo fa Arrivano Oh mio dio Morti 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 Colpito Ok Vai Io becco l'altri Sono in tre Sono in tre Arrivo Uccido questo Ok vai Prendi tutta l'armatura Siamo Vieni di armatura Ah sai c'è un'altra C'è un'altra Ce la fai a ucciderlo da solo? Ovvio Bravo È una roba assurda Ah c'è un'altra via qua Eh Ma oh mio dio Senti la musica Che cazzo è Ma il tema di The Forest Di Sound of the Forest Più o meno Che cazzo Ma sul serio Che cazzo Chi fa la roba del genere qui Imbossolata poi Vedi Vabbè La sono spenta I bambini I bambini Uccidili Ti fanno saltare Ok Vai già Molto male Ok 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 Sono gli stessi proprio Gli stessi bimbi mutanti Ancora vivo O forse No in realtà sono più brutti Se posso dire Sì Più brutti Guardali brutti Santissimo Dio Piano piano Puoi stare a me avanti Puoi stare tu? Sì sì Quello sarei io Più Oh Cos'è? È una pietra Ma c'è un morto Ma che cazzo è? Cos'è sto posto? Pistola assordente No che guarda la finestra È passato un mostro gigantesco Cosa cazzo è quello schifo? Ho trovato una pistola assordente Ma Pistola assordente Ok ma ha bisogno di una Ha bisogno di una carica O è infinita? No Non vedo proiettili Munizioni per pistola assordente Sì ci sono Ma Lo vedi? Ma quello è un laboratorio alla fine dentro Cos'è quella roba? Allora È un edificio che non è di sicuro una caverna Ma perché qua? Come si Come si Ci può accedere? Non lo so Hai dato il cazzo di ammazzare E non è colpa mia Come ci si accede? Non lo so Non mi interessa attualmente Non ci voglio entrare Ti lancio un bengala per favore Sì Non me lo vuole far accendere Ma che Sì vabbè Oh Scappa Scappa Perché? Dietro c'è un mostro Dietro Oh cazzo Eh Da dove è spuntato quello schifo? Aspetta che è una pietra di merda E non prendo l'arma giusta Oh devi crepare Stronzo È morto Madonna Sette armature inquietanti Respiratore Quindi noi adesso Dovremmo seriamente Andare col respiratore Sott'acqua A quanto pare sì Ma un attimino Che fammi curare Perché adesso Tutta la roba Ma non abbiamo la torcia A prescindere Ma sì invece Sì È incorporata Madonna che belle Le caverne così Sott'acqua Non mi sento a mio agio Però con tutto questo Quanto è stretto Cioè stai notando Quanto è stretto? Porca trota sì Super claustrofobico Poi vedi che è chiudito Oh Cosa è sta luce? Oh Sali su Siamo usciti Che Kelvin che ci aspetta Bello Bello Ma che cazzo Mi sta usando l'accetta Come se fosse una lancia Vabbè Ahia Dove startiamo ragazzi Mi sei buggato di brutto Non mi apre l'inventario Mi usa l'ascia come un'arancia Ah chi? Cosa c'è? Sono Perché mi ha salvato di qua? Dentro la caverna di prima Dov'è? Torni indietro Ce la fai sì? Tu corri Cerca di non combattere indigeni Intanto provo a fare una cosa Ok allora Bravo Bravo Io intanto insieme Ah ci sono da fare i mezzi tronchi Per fare il tetto Ok Tutto a mano Tutto Pazzi Io adesso metto Eccolo qua Eccolo qua Il letto Ok Prendiamo un po' di stick E un nastro Madonna che stretta Oddio A chi? No a chi No ti prego Ok Ok Ecco Cazzo siamo Sesto posto Vai dove cazzo siamo No a chi No a chi No a chi Eccolo qua Eccolo qua